signore e signori capitolo 6 di uncharted 4 remastered nella raccolta dell'eredità dei ladri chi nasce ladro puntini puntini ci troviamo per la prima volta in assoluto in questa storia in italia sulla costiera amalfitana anche se in realtà non sembrerebbe visto quello che c'è qua però ci fidiamo del gioco credo sia la terza volta ho sbrigato un paio di lavoretti sì sì dio sa di costiera amalfitana comunque amalfi coast ok questo praticamente penso sia ripreso dal dal secondo capitolo di uncharted 2 il museo in turchia ci sta grande sei zitto bravo la corda è rimasta lì però è rimasta lì ok qua dove vado di qua ehi potremmo aggrapparci a quella trave certo aspetta che qua ci devo fastidio l'un l'altro no sarei su di me ho una buona presa d'accordo ok ok proviamo al primo tentativo nessuno ama gli esibizionisti ah perché la corda giustamente la sua drick l'ha lasciata la non lo so vabbè ci sono ok faccio ok ok che non mi interessa bene bravo oddio questa mi manca salta bravissimo su su aspetta attraverso un tubo e forse non potrà più camminare bene lista ehi è scommesso sulla partita inghilterra vicenda inghilterra traditore ehi non confondere l'orgorio nazionale con la realtà ok ok alcuni doppiatori sono italiani sono rimasti in lingua originale si sente anche dalla qualità dell'audio però l'italiano inglesizzato ve lo potevate risparmiare era liscio non ne avremo bisogno spero che tu abbia ragione quanti anni sono passati sono le piccole cose a mancare di più dica l'odore di agrumi freschi in italia gli agrumi li trovi sono piccole cose tutte insieme giù e non serviva a fare questa cosa pirotecnica dovrebbe tenere che devo fare? devo calarmi perché non lo so ma vabbè ah ok ho capito bravissimo non pensavo di dover calare così tanto onestamente sì non dirlo a me allora che mi dici di quegli altri reperti quelli che mi sono perso sei riuscito almeno a fotografarli? sì aspetta arrivo a parlarti tranquillo magari Elena ne aveva filmati alcuni ma la telecamera è andata che peccato ho dei disegni però posso mostrarteli al ritorno dei disegni? li hai appesi al... perché non lo posso buttare giù? sono bei disegni ah immagino tutto molto bello ma che dobbiamo fare? non so come arrampicarmi qui io sì lo so per fortuna abbiamo uno che si arrampica come noi Sam pensate a fare tutto questo con Sally lì sì stai bello fresco su su forse volevi dire instabile tutto bene? questo è un classico di Uncharted Sì tutto bene vai e mu? allampione pensavo fosse un nemico sarebbe un casino se sbagliassi ora questo è certo ma io non sbaglio eh signori lanciami la fune stronzo il culo eccoci a Villarossi venuta Rossi sorry grazie Nathan Nathan cosa? dobbiamo apparire un minimo eleganti no? ok tutto bene? sì come stava? un figurino 100 milioni di dollari andiamo d'accordo ti seguo mi devi 400 milioni di dollari e Sally non ci abbandona mai aspettiamo nessuno si lamenta se fumi in casa quanto tempo troppo ragazzo ricordi il mio 15 anni Victor che mi venga un colpo 15 anni già è bello vederti vivo cerchiamo di tenerlo in vita recuperando la croce eh? sì a proposito cosa? chi è successo? venite vi mostro una cosa guardate no l'hanno tirata fuori poco prima che arrivaste hanno cambiato l'ordine dei lotti serve un sacco di grana per fare una cosa perché lì se era a casa prima che inizi la stanza 10-15 minuti al massimo ci sarà pure un modo per prenderla l'unico piccolo problema è quel centinaio di testimoni l'assunto ok ok ma basterà un diversivo tipo? un detensivo tipo non lo so ma deve esserci un modo se le guardie ci vedono vicino alla croce e se non ci vedessero ragionate come se non foste mai stati in prigione se vuoi fare qualcosa di proibito aspetti che spengano le luci già dov'è il quadro elettrico generale? è a saperlo aperteci la mappa aerazione elettricità eccolo qua su basta arrampicarsi e tagliare la corrente e prendere la croce ci sarà un generale basta farlo questo ci lascia pochi secondi di buio in cui agire dovremo essere vicini alla croce quando saltano le luci è possibile avvicinarci senza farci notare scusate signori antipasti? oh no grazie ciao come stai? ciao sfacciato proprio un caveriere non si nota potrebbe andare funzionerà bene allora io arrivo all'interruttore le espressioni facciali sono una cosa assurda ragazzi veramente tu scendi di sotto e tieni d'occhio la croce ok? se noti qualcosa di strano ci avvisi ricevuto bene forza possiamo farcela pronti? sempre forza seguitemi passiamo dalla cantina e cantina sia madonna il ray tracing sul pavimento è fantastico ragazzi ok ok minchia di avere una buona patronanza o quantomeno una pronuncia accettabile se in qualche mese fa ero per la mia fidanzata al centro minchia mi sa quanto viene che è la base d'asta della croce ok salivan ecco mi scusa un secondo e da questa parte andiamo oh cari l'ossa certo proprio un distacco tra gli altri lanciarti dai raga scusi ma togliti dal coglioni bloccata oh cavolo è chiusa merda prima era aperta e adesso scassiamo no è elettronica troviamo un'altra strada qualcuno è aperta c'è da rubare la chiave a lui come te l'aveva insegnato Sully in Uncharted 3 cazzo non ci sto neanche provando lo vedo dai ci sei da sarà meglio bellissima traduzione in italiano di non fotografare ti seguo tranquillo più che altro l'ho perso che grande è lui dai che ci siamo dai come se fosse un trofeo va bene diciamo che i nastassi iscritti e i borseggi erano molto più semplici adoro i professionisti in azione ok bene eccoci qui queste ci serviranno ottimo buona fortuna ci aggiorniamo bestione non voglio essere criticone ma secondo me un Uncharted di passaggio potevano farlo Nadine rossa ciao ciao Nadine che piacere rivederti questa volta ti ho colto di sorpresa allora sono lieto non sia una pistola vera non ti avrei riconosciuta senza uniforme dei muscoli raga sai com'è a volte per lavoro devo tirare fuori il mio lato femminile ti vedo in forma comunque anche tu non sei male qui mi sento fuori luogo non sa che è piacere incontrare qualcuno che parli la mia lingua anche se tu sei americano per questo prenditela con i miei genitori stavo andando al bar ti prendo qualcosa? sì uno scotch con ghiaccio torno subito di carta isolante ok banatemi dopo questa hai sentito tutto? sì furbetto c'è una ragazza che ti fa la corte già Nadine Nadine Ross mi sta offrendo da bere Nadine Ross sbaglio o ha un esercito di mercenari? la coastline shoreline sì giusto c'era ruggine tra voi chiamiamola ruggine per fortuna non sembra portarmi alcun rancore io qui sono pronto ok bene noi ci siamo Sally tu non cacciarti nei guai ci proverò ci sei? sì andiamo ok dritti dobbiamo scoprire dove fanno pausa cuochi e camerieri potremmo tirarne fuori uno dalla cucina allora cerchiamo e picchiarlo i tavoli i meandri abbastanza cibo da sfamare una città non c'è luce è che ci provo pure perché sono un coglione no è chiusa voglio verificarlo di persona è chiusa esatto piano B forse questo oh incredible condotti di ventilazione vieni qua ecco qua e luce fu addonna quanto buon vino un bel impianto elettrico non hai una torcia sì vabbè meglio di nulla è sempre una buona idea farsi accompagnare da un fumatore tranne quando bisogna correre accidenti i fumi dell'alcol cominciano a darmi alla testa per fortuna guida Sally questa porta nope forse l'accesso ai condotti è dietro alle botti proviamo non ho combinato niente ma se combinassi il contrario magari se combinassi il contrario potrei fare questo oh yes baby dovremmo preoccuparci che Victor sia chiacchierando con Dean Ross ho sentito tutte storie sul suo punto non preoccuparti per sempre riesce sempre a cavarsela ehm vabbè affanculo mancava anche il controller quindi aver tirato questo indietro significa che noi possiamo andare di qua e poi di qua ok si sta consumando il gas lì dentro capito zio però fammi luce ehi ce la faccio non ho bisogno del tuo aiuto sto tenendo l'accendino tiene l'accendino mando l'accendino vogliamo andare o no? se invece la spingessi no lavoro inutile è buio pesto che due coglioni ah ok ecco cosa voleva bene ci siamo è più angosto di quanto sempre è molto più polveroso qua ci stanno venendo a cercare ci stanno venendo a cercare merda questa parte qui sei ah ok 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 vai silenzio ok posso andare grazie 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 i ricettatori che fastidio aprilo dai aria fresca arriviamo le giacche ragazzi voi l'avete lasciate guarda qui vedi l'edificio con la torre radio intendi il ripetitore che vabbè è la sala del generatore si hai ragione troviamo un modo per superare il cancello mo si trova mo si trova a lords eccolo qua sam qui ti sollevo io ok per fortuna sei ancora in forma ecco sally siamo usciti dalle cantine andiamo alla sala del generatore com'è la situazione ok ci sei potevo magari prendere mezzo tesoro ma sti cazzi sicuramente sta bene qua non c'è nulla e mi pare che anche di qua ci sia veramente poco appunto ecco la cucina e ovviamente è chiusa vi dico sempre me ne frega un cazzo il trofeo la volta che vado a cercarlo non c'è forse potremmo usarla per trovare una finestra e calarci nelle cucine ottima idea io ti sollevo tu occupati della scala vieni ok ci sei che ha fatto troppo rumore buonasera ma che sta facendo ecco cosa stava facendo capirai ci sveglierai mutante col mal di testa a noi capitava spesso no ok io ho da fare e tu hai da fare ci siamo divisi cosa che spesso volentieri comporta cazzi in culo detto proprio tra di noi allora Sam tutto ok si a parte i pantaloni troppo attillati beh sono la moda del momento davvero beh quando sei in Roma perché siamo in Italia lo capite bene Sam ci sei Sam cioè questi si sono cagati il Nepal e non si erano mai cagati l'Italia fantastico oh finalmente gira gli angoli a modo ok via qua destra su 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 ancora bravissimo ragazzi se mi sentite vedo la sala del generatore sarò lì a breve o quasi non dire gatto e hai capito ho capito ho capito cosa c'è da fare questo oddio pensavo per un momento di non farcela su 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 madonna no sorridi oh merda non ci credo l'avete scampato in realtà no no siamo rimasti bloccati dentro per un mese per un mese e il povero cavallo a bordo avevamo un sacco di carote conosci qualcuno no pensavo di sì ma no non mi hai mai presentato il tuo paraculo il mio ex socio ormai 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 è un po' che lavoro solo drake non c'è più vale a dire è morto si è ritirato dicono che righi dritto si è sposato beh allora è come se fosse morto no bastardo lui ce la mette nel culo tipo harry flynn me la sento quanto tempo è passato dieci anni dodici quindici fantastico dopo tutti questi anni ci azzuffiamo ancora sulle cianfrusaglie della gente morta ah sì pensavo gestissi l'azienda di famiglia ora è la mia azienda sì quello è il lavoro ufficiale oh oh un lavoretto niente male scommetto che potresti comprarti tutto il catalogo dell'asta beh certo ma che gusto ci sarebbe ultimamente mi interessano solo i pesoni la roba grossa su cosa dovrei puntare questa sera sì come se avessi i suoi soldi ma detto tra noi ho visto che hanno invertito i lotti ho paura che qualcuno voglia truccare l'asta beh ricordati dove sei qui nessuno si è arricchito rigando dritto per questo hai bisogno di qualcuno che ti guardi le spalle in un posto così il saggio ha parlato ora lavori per un americano come? questa volta siamo soci capisco no una coppia esplosiva tra poco metteremo all'asta il nostro prossimo articolo un crucifisso di legno intersiato della collezione non farò il terzo incomodo divertitevi voi due aspetta un po' sally come l'hai scoperta? cosa? cosa avrei scoperto Rafe? Nadine forse il tuo socio ha esagerato con i bloody men basta stronzate nonno non so come tu sia riuscito a entrare ma se solo pensi di partecipare all'asta della croce di Avery sappi che ne uscirai in una cassa da morto ora non hanno l'asta per colpa tua beh ci siamo capiti è stato un piacere peccato la facecam copra sally ma comunque il discorso era chiaro Nate dannazione ragazzo dove diavolo sei? se l'è riscalata tutta capitolo sei no sempre cinque sia vabbè saltiamo madonna che spavento qua non è proprio il miglior posto per andare ok non lo far crollare ogni volta che vedo questo mi piglia malissimo raga seriamente bravo toccalo ok si toccalo era brutto ma rendeva bello quando non può andare in alto punti in alto in alto e quello alza la faccia stile Assassin's Creed proprio ok il tetto non era raggiungibile però siamo dove volevamo essere quindi bene così bellissimo perché mettono tutti con l'accento romano siamo a Napoli direi che per stasera può bastare ma che diavolo pronto che cosa questo è rumeno che cosa essere rumeno giù ci siamo ora dove diavolo sono gli interruttori aspetta che te lo vengono a dire merda Sam Sully ci siete? dannazione ragazzo dov'eri finito? ce l'ho fatta con qualche contrattempo ma se puoi tagliare la corrente dovresti farlo ora ok ma mi servirà un minuto per arrivare al pannello non abbiamo un minuto Rave sta per andarsene con la vostra croce aspetta cosa? Rave Rave è qui si Rave è qui e al momento la sua offerta è quella più alta beh tu rilancia con cosa? non me la posso permettere Sully la stiamo rubando ricordi e se capisce che è un blef non succederà siamo a 90.000 qualcuno offre di più? ragazzi 100.000 sono un uomo morto sì ma se faccio l'offerta più alta moreremo tutti Sully ho bisogno di un po' di tempo fidati di me 91 92 al diavolo bene abbiamo un'offerta da 100.000 euro grazie nessuno vuole rilanciare? abbiamo un'offerta da 110.000 rialzo 30 faccio 31 tranquillo tra un attimo sarai salvo me lo auguro ok devo solo rompere il lucchetto ma che cosa? con un piede di porco cesoie tronchesi siamo ora a 140.000 ammi degli attrezzi porta l'offerta a 150.000 euro deve esserci qualcosa per la forza nuova offerta siamo a 160.000 euro un secondo con l'offerta del signore saliamo a 170.000 sì oh piedi di porco lo sapevo adesso abbiamo un'offerta di 180.000 euro nostra offerta alla cifra di 190.000 euro dai finalmente abbiamo un'offerta di 200.000 euro stacca sta corrente bene sono all'interruttore pronti? sono un'auto pronto Victor? un secondo il signore ci offre 210.000 euro 500.000 vediamo di farla finita grazie bene l'offerta attuale è 500.000 euro il signore desidera rilanciare? sì mi stavo quasi preoccupando Victor volevi che ti uccidessi? ok roviniamo la serata questo stronzo nessun altro 501 502 salta dichiaro il lotto venduto per 500.000 euro signore signori mantenete la calma il generatore d'emergenza si attiverà a momenti è sparita bravo Sam fatene levati di mezzo fermatelo fermate quell'uomo fermo che state facendo così non fate scappare mi capite? sparisci d'accordo no Sam dimmi che hai la croce Sandisma è qui con me vuoi saltarlo? abbiamo sollevato un vespaio la sala da ballo è isolata la sicurezza disturba il segnale ehi Victor come ce ne andiamo? andate al vialetto anteriore seguite i riflettori io arrivo con l'auto perfetto ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti